Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana, in A1 fino alle 6 di domani 12 aprile per lavori, chiusi i tratti tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per lavori in corso. Ancora in Fipilì tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze ci sono materiali dispersi in carreggiata. Per quanto riguarda i traghetti cancellate le corse da Piombino verso Rio Marina e Cavo Porto Ferraio delle 11.55 e 12.20 a causa del maltempo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!